Buongiorno a tutti, sono Mattelda Lupori e dirigo l'Istituto Pellati a Nizza Monferrato in provincia di Asti. Ho partecipato al corso organizzato da Diesel, oltre lo smart working, la trasformazione digitale, ed è stato per me veramente scoprire un mondo. Mi sentivo un po' come quelle ragazzine che abbiamo tutti a scuola, che studiano anche 13 ore al giorno, ma non hanno risultati corrispondenti. E noi diciamo loro, ti manca il metodo di studio, cerchiamo di aiutarti a migliorare il tuo metodo di studio. Dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro a scuola, il corso che abbiamo fatto col professore Abrami per me è servito prima di tutto a questo. Ho imparato un nuovo metodo di lavoro che mi ha veramente permesso di lavorare meglio, con più soddisfazione e in un certo senso anche di meno. Migliorando i risultati. È certamente un modo di lavorare mutuato dalle aziende, cioè che le aziende hanno già sperimentato da anni, ma che può veramente facilmente essere applicato anche alla nostra situazione. Per di più ho provato a invitare al corso anche altre persone della scuola, quindi abbiamo partecipato con la DSGA e tutto lo staff, che è formato da docenti molto in gamba nel loro lavoro, ma che non si erano in realtà mai giocate sul lato amministrativo, quindi anche per loro era un mondo nuovo. Abbiamo avuto dei grossi risultati, prima di tutto anche a livello di organizzazione del nostro gruppo di lavoro. È migliorato, è stato veramente un team building importante e adesso stiamo pian pianino applicandolo. Quindi vi propongo di nuovo, per chi non l'avesse fatto, un corso base che è veramente un investimento piccolo volendo, perché si tratta poi di tre pomeriggi e un po' di momenti personali di rielaborazione, che però può veramente fare la differenza. Io e le mie colleghe aspettiamo invece il secondo corso, che sarà un lavoro di approfondimento a cui spero di trovarvi e di conoscervi. Grazie.